Antonio Schepis, calciatore dell'Addominus Peloro, una sconfitta per 2 a 0 su un campo difficile, forse potevate fare qualcosa in più? Sì, c'è stato un rammarico perché abbiamo preso due ore su calci piazzati, nonostante ci porterebbe a parare il primo rigore, nel secondo non potevo fare niente. Potevamo fare qualcosa in più, appunto il rammarico è questo. Due calci di rigore contro, forse siete un po' arrabbiati con il direttore di gara? No, parliamoci che c'erano tutte e due, niente da dire. Cosa può fare la tua squadra per migliorare? Avete tre punti in classifica e vi dovete salvare il prima possibile? Ci vuole carattere in questa categoria, è bassa, solamente questo. Si parla anche che voi avete un ottimo gruppo, siete tutti giocatori locali? Sì, sì, infatti siamo tutti della stessa zona, quindi ci siamo riusciuti insieme e da un bel po' giochiamo, purtroppo le sconfitte vanno accettate, si cresce. Secondo te quale sarà la squadra che vincerà il campionato? La lotta secondo me sarà tra Trinaglia e la nuova indipendente. A dicembre prenderete qualche calciatore sul mercato? Sì, abbiamo onestamente parlando un ragazzo che è ritorno dall'Afghanistan che è partito militare, che è un ottimo centrocampista, che era già con noi, e poi un altro esterno, Silvio Mangaliti. Quest'anno quanti col farai? Io spero almeno uno. Ok, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.